Musica È un posto con strade, palazzi e... Un luogo dove possiamo stare e dormire. Un mondo dove ci sono gli alberi ma non ci sono tanti alberi e ci sono tante case. Un posto dove ci abitano le persone, dove ci sono i servizi pubblici. Non c'è l'autobus, c'è l'autobus, c'è qui l'autobus. A Firenze è una strada grande. Sì, è una cosa che comanda qualcosa, tipo, stella cosa. Musica Il sindaco è una persona che decide tutte le cose che possono fare le persone di quella città. Musica Fare costruire degli spazi appositi per ragazzi. Il parco giochi Una cosa dove si può arrampicare I giochi Se io fossi il sindaco Farei felice tutta la gente. Farei più parti giochi Lo scivolo Un posto, sì, dove stare insieme, biblioteca, spazio gioco, rilassamento, anche un posto dove uno si può addormentare tranquillamente, ingressi gratis nei luoghi come possono essere il Duomo di Firenze, musei. Sì, dove ci sono delle scorture. Farei delle scorciatoie tra ogni città Le vie di comunicazione tra la città, come può essere Firenze, e un paesino Però quando c'è traffico arriviamo molto tardi In macchina mi viene la nausea In treno invece no Motto di tutti i colori La negra Rosso, giallo, verde, dipende dalle parti Verde Grazie a tutti Grazie a tutti